Non è più il bruse di una volta, una frase che si sente ripetere in continuazione. È diventato quasi un mantra per tutti quelli che hanno vissuto gli anni d'oro della manifestazione pistoiese. Anni d'oro anche per i locali. Abbiamo fatto un giro per sentire quest'anno come hanno vissuto le serate. Un disastro è stato, non si è percepito minimamente che ci fosse una manifestazione in piazza del Duomo. Le frequenze nella piazza del Pistoia e in piazza del Duomo sono state al minimo storico. Si parla di neanche mille persone su determinate serate. Addirittura su delle serate, tipo il venerdì, c'era forse anche meno gente del sole dal giro. Abbastanza, come sempre, ci sono tante gente. Chiaramente non è più bluse di una volta, però la gente sta partecipando abbastanza bene. Gente di fuori ci sono state, chiaramente non come prima, come c'era una volta. Solo una serata è stata positiva, quella di giovedì, che era entrata gratuita in piazza, anni 80, musica, divertimento e quant'altro. Poi tutte le altre serate sono state un flop. Ma sì, per il bluse ci sono anche tanti turisti quest'anno. Ci sono sia italiani che stranieri. Quindi il bluse ha dato movimento? Sì, 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 quello sempre. Quello sempre e anche i nomi credo siano azzeccati. Anche durante i concerti, prima, indietro, magari c'era tanta gente, si veniva per mangiare una pizza veloce, per poi andare al concerto, oppure un aperitivo. Invece quest'anno non più di tanto. Avendo uno storico delle serate del bluse di oltre 25 anni, sicuramente queste sono serate un po' più tranquille sotto tutti i punti di vista. Le persone non erano molto presenti. A testimonianza anche dei banchetti che ci sono qui in via Cavour, insomma c'è stato un po' di malessere. Per me è stato molto deludente. Noi si è comunque lavorato, però la sera in cui c'è stato più movimento è stato il giovedì. L'altra sere no.